E' con una canzone di Vasco Rossi che il presidente di CNA, Roberto Lazzari, fa riferimento all'Assemblea Nazionale degli Imprenditori CNA, tenuta sino al novembre 2014 nel capannone di un'azienda di Mirandola, colpita dal terremoto del 2012. Sembrava la fine del mondo, ma io sono ancora qua. Così come dice Vasco, siamo ancora qua, nonostante la situazione non sia confortante. I numeri dell'economia rimangono impietosi e così anche la situazione nella nostra provincia non migliora. Le aziende brisciane falliscono ogni anno di più. Nel 2014 infatti sono fallite 392 aziende, in aumento dell'1,8% rispetto al 2013. Per migliorare questa situazione c'è bisogno di un grande sforzo sia da parte dell'Europa che dell'Italia. Le uniche aziende in crescita nel nostro territorio per il momento rimangono le imprese gestite da stranieri. L'obiettivo è quindi quello di agire e di guardare al futuro. Il 2015 sarà l'anno della svolta. Ai nostri microfoni parlano il presidente di CNA Brescia, Roberto Lazzari, e il direttore Mauro Savoldi. Gli artigiani sono positivi e di natura, per cui se no non apriremo le aziende tutte le mani. La canzone Siamo ancora qua era stata richiamata nella nostra assemblea nazionale di un paio di mesi fa, in un capannone ricostruito a Mirandola dopo il terremoto. Dava il senso della voglia delle imprese di ricominciare, perché siamo veramente stufi di questa crisi e se c'è il minimo appiglio per poter andare avanti lo troviamo. Noi siamo visti a fine novembre col presidente del consiglio Renzi a Mirandola per l'assemblea nazionale 2014. Abbiamo scelto di farla in un capannone che era stato terremotato nel 2012 per dare il simbolo che poi è stato ricostruito. Quindi, come diceva il presidente, gli artigiani e i piccoli e i medi imprenditori sono degli eroi della quotidianità, perché tutte le mettene si alzano, alzano la rossa racinesca, la propria azienda, nonostante tutte le difficoltà imposte dal punto di vista fiscale, legislativo e normativo. Quindi sia la canzone Siamo ancora qua, perché nonostante tutte queste difficoltà ci crediamo e continuiamo, e anche eroi perché affrontiamo direttamente le questioni. E' anche un sondaggio fatto da CNA nazionale verso il 2015. La maggior parte delle imprese ci crede, lo considera come l'anno della svolta, nonostante i dati economici ci dicano che ci saranno ancora delle difficoltà, però dall'altra parte dicono che non ce la mettiamo tutta, siamo degli eroi, però vogliamo che anche il governo faccia la sua parte. Infatti lo stesso sondaggio dice che o c'è la svolta effettiva nel 2015, oppure viene considerato come l'ultima spiaggia per quanto riguarda l'attività.